Allora, cari amici, dovete sapere che Michela Murgia è una scrittrice, ma è soprattutto una donna molto, ma molto ignorante. Un'ignorantona, questa Michela Murgia. Noi l'abbiamo di Quarta Repubblica, ha provato a intervistare sulla questione dei migranti. Lei si è avvicinata alla telecamera, ha fatto finta, inizialmente, di accettare la nostra intervista, quando ha sentito che è di Nicola Porro, non ha partecipato. Noi l'abbiamo fatto vedere, questo spezzone, in cui lei era disgustata, non da Quarta Repubblica, che non conosceva, ma da Nicola Porro. Quarta Repubblica, è il toxo di Nicola Porro. E poi dopo, lei in un post su Instagram, ha detto che faccio parte di quei disonesti intellettualmente. Questa ignorante, questa ignorante pure scrive, l'ignoranza è anche nella testa, non soltanto nella grammatica, questa ignorante ovviamente ignora chi sono, cosa scrivo, cosa dico, come è fatta Quarta Repubblica, non conosceva Quarta Repubblica, ma mi associava a un giro di persone che lei evidentemente considera fasciste. Quindi io in realtà le sono anche grato, perché essendo lei totalmente ignorante, non ha usato il vocabolo che lei usa sempre per quelli che non la pensano come lei, e cioè di fascista. Due considerazioni. La prima, molto semplice, cara signora Murgia, quelli che non la pensano come te non sono disonesti intellettualmente, fascisti, nazisti, antisemiti, negazionisti, anzi tu forse un po' antisemita lo sei, non sono quella roba là, cioè pensarla diversamente dalla Murgia, non vuol dire essere dei reietti dell'intelligenza umana, prima cosa. Seconda cosa, l'espertona, siccome qualche marchetta a Rai 3 l'ha fatta in televisione, l'espertona ci spiega come funziona la televisione, perché sapete, mi tagliano, mi mettono, mi fanno, ma che ne sai, io sono stato una vita da Santoro in cui erano tutti contro di me, ma ci si va, se una ha un'idea, va a difenderla nei luoghi in cui gli è chiesto di difenderla, se vuole, può anche non andarci, non sei obbligato ad entrare in televisione, non sei obbligato ad andare da Santoro, da Porro o da Babbo Natale, ma io non mi sarei mai permesso di accusare di disonestà intellettuale chi non la pensa come me. E poi l'ultima domanda che faccio alla signora Murgia, cara signora Murgia, sono disonesti intellettualmente i ragazzi di Torre Maura? Sono disonesti intellettualmente le persone che vogliono una casa a casa al bruciato? Sono disonesti intellettualmente quelli che vivono nella merda di San Siro? Sono disonesti intellettualmente? Invece di fare le vostre riunioni lì al salario, tu sei andata, cara signora Murgia, con questi disonesti intellettuali a confrontare le tue idee di accoglienza? Tu sei andata, oltre a fare la politica, la maestra di religione, la receptionist? Hai provato a vedere cosa vuol dire vivere in una provincia italiana? Ci hai provato? O l'ignoranza tua arriva a questa montagna di presunzione tipica di voi ignoranti che vi vedete tra di voi e vi confortate come in una fila di ubriachi? Vi tenete uno sull'altro perché se ne cade uno cadono tutti. Ciao!